ehi ragazzi qui con voi ci sono frango e francesco a tutti watch it buddy e benvenuti in questo nuovissimo video di duggie hey duggie allora visto che che nessuno ci ha detto che voleva un carton show su duggie noi l'abbiamo proposto perché perché questo cartone ci piaceva tanto quando eravamo piccoli sì allora iniziamo subito parlare ma prima sigla tata 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 allora il cartone parla di un cane iniziamo con duggie che il protagonista del cartone animato che è un capo scout che è un cane e vabbè e fai il capo scout e robe del genere e va bene così poi ci sono i lupetti eh già che sono tipo sono degli animaletti tipo un coccodrillo un elefante allora allora poi c'è poi ci sono i lupetti che si chiamano tag che è un uno è un coccodrillo che che non è proprio un coccodrillo che morde le persone no è un coccodrillo bravo vabbè poi c'è poi c'è c'è un rinoceronte che si chiama mi sembra che è pure tag che è un rinoceronte si poi c'è un maialino ed rori voglio dire e poi c'è una specie di lupo non so che cos'è questo un ganguro poi c'è un topo ah un topo quello che si chiama Eddie eh sì è questa femmina che non so come si chiama che non l'abbiamo visto e non ci ricordiamo allora questi sono i genitori che vanno a prenderli no non è vero questi non sono i genitori ah non sono i genitori già allora ma non ci sono solo questi personaggi nel cartone infatti ci sono ci sono pure rane eh sì un elefante un gorilla ci sono tanti personaggi altri personaggi oppure un un elefante eh sì che si vede vabbè in un episodio della serie beh in pratica in Hey Dougie ci sono moltissimi personaggi che nemmeno sappiamo i nomi tipo come vabbè roba del genere oppure cose così guarda qua ci sono tutti i personaggi sono tantissimi personaggi pure c'è pure un delle renne degli scogliattoli i pinguini i conigli dei granchi e c'è pure e c'è pure una una donna altissima che si chiama che 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 è un pennuto gigante mhm che parla pure certo perché in tutti i personaggi quello è uno struzzo quello è uno struzzo è uno struzzo giusto comunque diciamo le cose allora la serie è composta da da cinque stagioni sì ed è ed anche quanti episodi eh almeno venti episodi a stagione e raccontano tutti di questo capo scout che ha i suoi scout piccolini che sono i lupetti certo il cartone però non ha fatto molto successo e devo dire che che questo fa parte di di una serie che che è per bambini ovvero cartunito comunque è cartunito e termina ogni volta con una con un stemmino che viene regalato ai lupetti quando riescono a fare qualcosa di buono e con i genitori che li vengono a prendere e Dougie che fa le cose strane e Dougie cosa dice alla fine è stato bello vero Dougie rough dice Dougie abbraccio dicono i lupetti e lo vanno ad abbracciare il The Cartoon Show termina qui siamo felici di avervi soddisfatti allora se Hey Dougie vi piace lasciate un bel like per il nostro canale youtube e iscrivetevi al canale e beh attivate la campanellina ciao ciao a tutti ciao